Come un secondo, Lucio anche lui fa parte dell'associazione Paper Street, uno degli organizzatori di questa serata evento, bello come il sole, Lucio questa sera, parliamo del primo gruppo che intanto invitiamo a salire sul palco. Sì, no, appunto, loro sono arrivati da lontanissimo, hanno avuto un po' di problemi con l'albergo, ma adesso si sono stabilizzati, quindi noi siamo contentissimi di iniziare. Ringrazio Serena, ringrazio l'assessore e ringrazio tutti voi sperando che ogni ora almeno si moltissimi. Buona serata, buona moglie a tutti, ciao! Buona serata, buona serata, buona serata. Buona serata, buona serata. Buona serata, buona serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.